Giuro solennemente di non avere buone intenzioni. Un momento. Questo è Hogwarts. E quello... No. È veramente... Silente. Nel suo studio. Passo e giù. Lo fa spesso. Insomma, questa mappa mostra... Tutti quanti. Tutti quanti. Tutti quanti. Dove sono? Cosa fanno? Ogni minuto? Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con il viaggio dell'eroe e il viaggio dell'anima. Con il video di oggi ho deciso di affrontare un argomento particolarmente complicato, sia per il tipo di personaggio trattato, il famoso Harry Potter, sia per la monumentale produzione che la scrittrice Joanne Kathleen Rowling ha stilato negli anni, fino a creare una saga tanto imponente quanto quella di Guerre Stellari. Confesso di non aver letto tutti i romanzi della Rowling sul mago più famoso del mondo. Conosco l'intera saga attraverso il cinema, che della produzione letteraria è una sensibile riduzione e un riadattamento. D'altra parte, non posso affrontare l'argomento analizzando i singoli film, perché negli anni si è deciso di affidare la regia a registi differenti e ciò ha creato una narrazione disomogenea nello stile e nei risultati. Da dove partire, allora? Anzitutto devo dare per scontato che abbiate visto tutti i film, se non addirittura letto tutti i libri. Io non affronterò un vero e proprio sunto della trama, perché è troppo lunga, ne separerò questa dalle osservazioni e mi soffermerò invece su ciò che mi preme evidenziare maggiormente man mano che descrivo il personaggio principale e l'ambiente in cui opera. Il mondo di Harry Potter consiste in due società che vivono una a fianco all'altra, quella degli umani, non dotati di alcun potere magico, che sono la stragrande maggioranza della popolazione sulla Terra, e quella dei maghi e delle streghe. Pochissimi maghi vivono integrati con gli umani, cerando rigorosamente la loro diversità. La maggior parte vive in città e villaggi propri, dove solo loro possono accedere. Il dono della magia è innato e generalmente viene trasmesso per via ereditaria. Tuttavia esistono anche maghi e streghe nati da persone normali. La società dei maghi è benevola e tollerante e convive pancificamente con quella degli umani, ma c'è una minoranza che vede i babbani, così i maghi chiamano gli umani, come degli esseri inferiori. Una delle priorità di questa società è mantenere segreta la propria esistenza. I soli babbani a cui viene rivelata sono i genitori di figli nati con poteri magici. Una scelta inevitabile sia per spiegare agli inconsapevoli genitori la peculiarità dei loro figli, sia per educare i ragazzi a controllare le loro facoltà in apposite scuole per maghi. Sebbene sia ricca di stranezze dal punto di vista del lettore e dello spettatore, la società dei maghi alla fine assomiglia molto a quella dei non maghi, nel senso che si trova a dover gestire problematiche esistenziali del quotidiano molto simili, anche se vengono affrontate in modo eccentrico. Solo a titolo di esempio basta osservare che esistono maghi ricchi e maghi poveri, quindi capiamo subito che la magia ha dei limiti o delle regole e non può essere usata per produrre beni o ricchezze, così da evitare le disparità sociali. Altro fatto da osservare è che un mago appare come un supereroe per noi lettori o spettatori che non siamo dotati di poteri magici. Tuttavia in quella società tutti sanno fare incantesimi e quindi la magia non è un potere speciale attributo di pochi. È solo una questione di applicazione saperla usare bene. In questo contesto si svolge la saga di Harry Potter. Harry è un ragazzino rimasto orfano sin dai suoi primi mesi di età. I suoi genitori sono due giovani e coraggiosi maghi che hanno pagato a caro prezzo il loro coraggio e il loro senso di giustizia perché sono stati trucidati dal mago nero più potente esistito mai, Lord Voldemort. Dopo il duplice omicidio dei genitori, rei di contrapporsi al suo disegno despotico, inaspettatamente lo stesso Voldemort viene annientato da un controincantesimo nel momento in cui tenta di uccidere il piccolissimo Harry. L'imprevisto libera la società dei maghi da questo pericolosissimo sociopatico e permette di ritornare a una vita serena e normale, per quanto si possa definire normale la vita dei maghi. Scomparso Voldemort, il professor Silente, il più potente mago bianco vivente e leader della fazione che si era schierata contro quel pazzo criminale, decide di affidare il piccolo Harry alla sorella della madre e alla sua famiglia, che appartiene alla società degli umani. In altre parole, gli zii e il cugino di Harry non sono dotati di alcun potere magico. La scelta del professore è dettata dal fatto che Silente non sa esattamente che fine abbia fatto Voldemort e rimangono ancora da catturare tanti suoi fanatici seguaci, i Mangiamorte, una sorta di camice nera del nostro passato. Così decide che, per il suo bene, il piccolo Harry debba essere cresciuto ben nascosto e inconsapevole delle sue origini e dei suoi poteri. Al suo undicesimo compleanno, però, il segreto non può più essere mantenuto, in quanto Harry deve seguire lo stesso percorso formativo di tutti gli altri maghi della sua età, cioè entrare in una delle scuole per maghi e imparare a gestire le sue facoltà. Harry è destinato alla prestigiosissima scuola inglese di Hogwarts, il cui preside è proprio il professor Silente. Da qui inizia tutta una serie di avventure affascinanti ed entusiasmanti che nel piccolo hanno un effetto dirompente. Immaginatevi vivere una vita tristissima dove siete considerati meno dello zerbino, questo era il trattamento che subiva nella casa degli zii, e poi nel giro di 24 ore scoprire di appartenere a un'altra razza, di essere dotato di poteri magici, di essere famosissimo in quel mondo di maghi per quanto accaduto undici anni prima, e di venire accolto con tutti gli onori in una società che incarna il regno delle fiabe che ogni bambino sogna di poter sperimentare quando legge le favole. Le varie avventure, narrate in sette libri piuttosto voluminosi, portano l'eroe ad affrontare numerose prove, a crescere sia in abilità sia in maturità, a farsi dei preziosi amici e più di un nemico, a provare emozioni profonde insieme con dolori strazianti, fino allo scontro finale con il re di vivo Lord Voldemort. Da questa brevissima sintesi avete già capito che nella saga di Harry Potter lo schema del viaggio dell'eroe è perfettamente applicato, soprattutto se analizziamo il ciclo completo piuttosto che i romanzi o i film presi singolarmente. Nel primo libro Harry inizia nel mondo noto, la casa degli zii, un mondo che lo deprime per come viene trattato, che gli fa vivere giorni sempre uguali, un ambiente al quale sembra essere ormai rassegnato. Improvvisamente però avviene un evento inaspettato e magico. Al suo undicesimo compleanno comincia a ricevere strane lettere di invito alla scuola di Hogwarts, che si infilano da ogni pertugio della casa nonostante i tentativi dello zio di distruggerle per impedire al nipote di conoscere la verità. Poi la comparsa di Hagrid, il gigantesco mago che svolge il ruolo di guardacaccia presso Hogwarts, l'ingresso al villaggio di Diagon Alley, l'acquisto della sua bacchetta magica e dei testi scolastici, la conoscenza dei folletti alla banca Gringot e tante altre incredibili novità. È un mondo pieno di sorprese. Faccio notare ancora una volta che l'eroe sceglie di entrare nel mondo ignoto senza costruzione e questa è una delle condizioni perché si possa parlare del viaggio dell'eroe. Un Harry con una coscienza ancora impreparata ad affrontare il viaggio avrebbe sempre potuto rifiutare l'invito di Hagrid a seguirlo, riportando inesorabilmente l'eroe al mondo grigio che conosce molto bene e interrompendo il percorso di sviluppo. Ma questa non è la storia di Harry naturalmente perché lui ha un livello di coscienza adeguato ad affrontare il viaggio dell'eroe. Il guardiano della soglia, la sua famiglia adottiva, è ben presente nei primi romanzi e fa del suo meglio per rallentare il percorso di risveglio del protagonista, ma non riesce a svolgere una funzione particolarmente efficace. Il dubbio se entrare o meno nel mondo magico di fatto non si pone mai nella mente del giovane mago. Naturalmente sto dando per scontate molte cose che ho già trattato in maniera piuttosto intensa nel primo video e quindi vi invito a riguardare i video che sono pubblicati all'interno del mio canale e selezionare quello se vi trovate un po' smarriti con tutte queste definizioni dei elementi chiave del viaggio dell'eroe. Qui mi preme porre un accento molto importante e quindi farvi notare una cosa che non darei per scontata. Non darei per scontata la naturalità della scelta di Harry di abbracciare l'ignoto, sebbene qualsiasi spettatore percepisca che il mondo noto del protagonista è veramente brutto e ingiusto e pieno di sofferenze. Quanti di noi infatti sperimentano situazioni simili ma preferiscono continuare a vivere la loro vita noiosa compiendo sempre lo stesso tran tran quotidiano o peggio ancora dolorosa insieme con compagni di vita violenti o situazioni di lavoro umilianti senza mai trovare il coraggio di cogliere le opportunità per un cambiamento drastico e perseguire i propri sogni. L'abitudine in undici anni a una vita grigia che aveva sempre creduto l'unica possibile avrebbe potuto avere la meglio e suggerire a Harry di non avventurarsi nell'ignoto che qualche preoccupazione presenta sicuramente agli occhi del ragazzino viste le stranezze che accadono e la gigantesca figura di Hagrid che si presenta dal nulla e che lo invita a salire su un sidecar volante. Non è mai sufficiente sperimentare una sofferenza costante e profonda per decidere di cambiare vita se non si è sopportati da una forte volontà e da una grande dose di coraggio e di fede nell'esistenza. La personalità frena e vuole rimanere nella zona di comfort che si è creata nel tempo anche se è deludente. In Harry però la personalità non ha fatto a tempo radicarsi nel profondo o non è sufficientemente forte da contrastare l'eroe nel suo viaggio e una caratteristica che emerge evidente sin dai primi momenti della narrazione è proprio il formidabile coraggio del ragazzo. Abbiamo visto come in tutti i film che applicano fedelmente lo schema del viaggio dell'eroe sia sempre dedicata a una gran parte della narrazione alla scoperta del mondo ignoto da parte del protagonista e al godere delle novità e dei piaceri legati al nuovo stato. In genere questa è anche la parte più emozionante dei racconti. Il mondo ignoto è detto anche mondo magico e qui la definizione si applica perfettamente alla lettera direi pertanto la descrizione di questa nuova dimensione da parte della Rowling è lunga ma estremamente piacevole. È proprio qui che l'autrice dà libero sfogo con la sua creatività facendo scoprire all'eroe incredibili particolari di quel nuovo ambiente. Il binario nove trequarti alla stazione di King's Cross, il bellissimo castello di Hogwarts, il cappello parlante, le scale che si muovono da sole, le assurde lezioni dei vari professori, la scopa volante e così via in un crescendo di sorprese e di fantasie che fanno tornare bambino anche l'adulto più disincantato. Grazie al suo carattere generoso e aperto Henry riesce a porre le basi per un'amicizia indissolubile con Hermione Granger, Ron Weasley, Neville Pachock, lo stesso Hagrid, che rappresentano gli aiutanti e naturalmente con il preside il professor Silente. Sebbene in tutta la saga la figura del mentore non sia esplicitata tanto nettamente quanto in altri racconti, Silente è senza dubbio il mentore di Henry. Lo capiamo da diversi indizi. Lo introduce al mondo magico, inviandogli le lettere d'invito alla scuola, e lo guida delicatamente nel suo percorso di crescita. Soprattutto gli fa il tipico dono del mentore, un oggetto magico. Sto parlando del mantello dell'invisibilità. Se avete visto anche i miei video precedenti ormai avete imparato ad aspettarvi e a riconoscere il dono che il mentore fa all'eroe per permettergli di completare il suo viaggio. E questo mantello toglie Harry d'impaccio più di una volta. Che cos'è? Una specie di mantello. Beh, vediamo come ti sta, mettilo. Cavolo! Una scelta molto azzeccata che a mio avviso la Rowling ha fatto è stato evitare che Silente recitasse il ruolo del mentore classico, insegnando a Harry gli incantesimi più potenti o a padroneggiare la magia con pratiche di autocontrollo o cose del genere. L'anziano mago agisce più come il padre che Harry non ha mai conosciuto. Lo guida alla scoperta di sé e dei suoi poteri, coltivando in lui la fiducia in sé stesso e in amici sinceri. Gli lascia affrontare prove difficili senza dargli alcun aiuto evidente. Lo tratta d'adulto, ma ha sempre una parola di conforto per lui. Per usare termini moderni e mutuati da altre discipline, più che un'azione di mentoring, Silente adotta con Harry una strategia di coaching, resa magistralmente dall'autrice che con il preside di Hogwarts crea uno dei personaggi più affascinanti. Una grande prova di sensibilità. Possiamo dire che Silente è un vero maestro di spiritualità per Harry. Nei primi film, presi singolarmente, la tentazione è praticamente assente. Harry non viene mai sfiorato dall'idea di abbandonare il mondo magico per tornare a quello dei babbani. E a partire dal quinto capitolo ciò diventa addirittura impossibile. Semmai possiamo trovare una traccia di tentazione nel primo libro, Harry Potter e la pietra filosofale, quando indugia troppo davanti allo specchio delle brame e rischia di perdersi in quel mondo di immagini fasulle. In quell'occasione Silente gli ricorda prontamente. Non serve a niente rifugiarsi nei sogni Harry e dimenticarsi di vivere. Potremmo ritrovare un altro momento di tentazione anche nella prima parte del settimo libro, Harry Potter e i doni della morte, quando, in fuga dai ghermidori che lavorano per Voldemort, per un istante viene solleticato dall'idea di mollare la ricerca, fuggire allo scontro con la Nemesi e nascondersi con Hermione per condurre una vita di totale anonimato, nella speranza di non venire mai trovato dal suo avversario, ma è solo un istante. La notte buia dell'anima invece è presente in tutti i capitoli. Infatti nel primo libro coincide con Harry e i suoi amici che scoprono che all'opera ha una trama oscura, in grado di allontanare dalla scuola il suo più potente difensore, Silente, così da poter recuperare la pietra filosofale, prima che i tre giovani maghi decidano che è necessario prendere l'iniziativa. Nel secondo libro, la notte buia dell'anima è vedere Hermione colpita quasi immortalmente dal basilisco, prima che Harry decida di affrontare la bestia con le proprie forze. Nel terzo è assistere alla disfatta dei suoi nuovi amici, Lupin e Sirius, da parte dei dissennatori, prima di comprendere che può rimandare indietro il tempo e sistemare le cose per il meglio. Nel quarto, uno dei più oscuri capitoli della saga, la notte buia dell'anima coincide con la conclusione del film, cioè con la morte del compagno Diggory per incantesimo e con la ricomparsa di Voldemort in carne e ossa. Nel quinto è la prepotenza della professoressa Dolores Umbridge che la porta a combinare punizioni corporali agli studenti ribelli, prima che Harry comprenda che per sconfiggerla serve un inganno e non uno scontro diretto. Nel sesto, ancora una volta, la notte buia dell'anima coincide con la conclusione del film, cioè con la morte del professor Silente per mano del professor Piton. Tutto è perduto e questo è il punto più basso dell'intero ciclo, ma sappiamo che il mentore deve uscire di scena perché l'eroe completi la sua maturazione. Nel settimo e ultimo capitolo ci sono tanti momenti di sconforto, ma il picco più basso viene toccato quando Harry diviene consapevole di dover morire per poter distruggere un horcrux di Voldemort e sicomiata da Hermione e da Aron in una delle scene più commoventi. Ma che Harry sia un eroe è fuori discussione e ogni volta esce trasformato dalla notte buia dell'anima e ogni volta diviene più forte e maturo per affrontare prove via via crescenti, senza smarrire la strada che porta alla redenzione. Quando riguardo ai film non riesco a non pensare alla prima lettera di San Paolo ai Corinzi, 10-13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne affinché la possiate sopportare. Non so se la Rowling si sia ispirata ai Vangeli, fatto sta che il brano appena letto si cala perfettamente nella storia di Harry Potter. E non possiamo che osservare la grande forza del giovane mago. Facendo un parallelo con la nostra vita capiamo che le difficoltà che incontriamo e che spesso ci fanno disperare non sono altro che le tentazioni di cui parla San Paolo, perfettamente tarate sulle nostre forze. Questo spiega perché un Nelson Mandela può rimanere ingiustamente incarcerato per 30 anni e uscirne accresciuto e pronto a ruoli importanti di trasformazione della società in cui vive, mentre uno come me dopo 30 anni di carcere probabilmente ne uscirebbe devastato. I livelli di coscienza sono diversi e le prove devono essere proporzionali a esse. La trasformazione dell'eroe comporta sicuramente la crescita delle sue abilità e per un mago l'abilità coincide con la capacità di fare incantesimi sempre più potenti e sofisticati. Ma nel caso di Harry la perizia con cui usa i propri incantesimi è un fatto secondario. A lui non interessa prenderne sempre di più e sempre di più devastanti. Non è spinto dalla sete di conoscenza. Semmai quello è l'interesse di Hermione che ha la sindrome della prima della classe ed è anche l'interesse di Voldemort che brama un potere sempre crescente per perseguire i suoi piani di origine totalitario. A Harry non interessa neppure conseguire una fama duratura che pure involatariamente ha già conquistato e che il suo ego avrebbe potuto suggerirgli di coltivare ulteriormente come sirene alle orecchie di Ulisse. Ciò che interessa a Harry è ciò che non ha mai avuto e che in parte non potrà recuperare, un'esistenza serena con la sua famiglia. È affascinato dalla vita di casa Weasley dove regnano la frugalità e il disordine ma dove tutti si vogliono un bene nell'anima. E infatti alla fine sposa Ginny, la prima figlia dopo Cinque Maschi, l'unica in grado di portare stabilità sentimentale all'eroe, probabilmente perché può contare sulle profonde radici di amore e fratellanza e disponibilità che sono le caratteristiche principali del nucleo familiare in cui è nata e cresciuta. Insieme con la trasformazione anche la redenzione è presente in quasi tutti i racconti, eccension fatta per i due che terminano con la notte buia dell'anima. Ricordo che la redenzione è la conquista dell'elisir dell'immortalità, cioè quell'oggetto, persona o conoscenza con il quale l'eroe ritorna a casa trasformato e in grado di cambiare il mondo. Nel primo libro la redenzione avviene quando Harry comprende come funziona lo specchio, purché si desideri nel modo giusto. Ecco la sconfitta del professor Quir, letteralmente posseduto dall'entità demoniaca che è Voldemort. Nel secondo la redenzione avviene attraverso il coraggio con cui affronta il morso mortale del basilisco e con l'aiuto fornitogli dalla Fenice. Nel terzo quando comprende di essere sempre stato lui il creatore del potentissimo incanto Patronus che salva se stesso nel passato e l'agonizzante Sirius Black. Nel quinto quando, come un moderno Ulisse, usa l'inganno per sconfiggere un nemico più spietato di lui, la professoressa Umbridge, convincendola a entrare nella foresta proibita dove incontrerà avversari degni della sua cattiveria. Nel settimo infine, ecco la scena più onirica della saga, quando si ritrova a parlare con l'anima di Silente in un abbagliante ricostruzione della stazione di King's Cross e soprattutto quando decide di tornare indietro per completare la sua missione. Ho scomodato il concetto di missione e ciò mi porta a parlare di quanto vede estremamente presente in tutta la saga creata dalla Rowling. È assolutamente vero che l'eroe deve scegliere di entrare nel mondo ignoto per iniziare a vivere le sue avventure, quindi Harry esercita il libero arbitrio e nel farlo dimostra di aver raggiunto il livello di coscienza adeguato per poter affrontare il viaggio. È altrettanto evidente che quanto gli capita sin dai primi mesi di vita, sino alla fine, è parte di un disegno molto più grande di lui. Un piano superiore, perfetto e ineluttabile. Non è forse questo un paradosso? Se esiste un piano che è predefinito e perfetto, come può l'eroe esercitare il libero arbitrio? E che senso ha cambiare un qualcosa che è già perfetto così com'è con il proprio libero arbitrio? E perché dobbiamo sperimentare la sofferenza in tutto questo? Il padre non poteva pensare a un piano privo di sofferenza. Per cercare di far luce su questo paradosso leggiamo insieme un passo del Vangelo di Matteo. Matteo 24, 1,14. Mentre Gesù, uscito dal Tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni del Tempio. Gesù disse loro, vedete tutte queste cose. In verità vi dico, non resterà qui pietra su pietra che non venga distrutta. Sedutosi poi sul monte degli olivi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e in disparte gli dissero, dici quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo. Gesù rispose, guardate che nessuno vi inganni, molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e entreranno molti in inganno. Sentirete poi parlare di guerra e di rumori di guerra. Guardate di non allarmarvi, è necessario che tutto questo avvenga, ma non è ancora la fine. Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori. Allora vi consegneranno i supplizi e vi uccideranno e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati ed essi si tradiranno e odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti. Per il dilagare dell'iniquità l'amore di molti si raffredderà, ma chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Frattanto questo Vangelo del Regno sarà annunziato in tutto il mondo perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. Insomma devono avvenire molti eventi devastanti. Tutto ciò che accade e accadrà è un disegno voluto sin dall'inizio, se il maestro è in grado di prevederlo con secoli o millenni di anticipo. E noi siamo scesi in questo momento proprio per vivere queste condizioni come anima, avendo a disposizione il nostro libero arbitrio. Facciamo fatica a interagire con questo paradosso perché siamo ancora tremendamente identificati con tutti i pensieri di dolore e non abbiamo lo sguardo interiore, abbiamo sempre uno sguardo rivolto verso l'esterno. Peccato che il mondo fuori è una proiezione del nostro stato di coscienza interiore. Quindi il dolore che ci accade è necessario fin tanto che quelle parti di ombra che abbiamo al nostro interno non le inquardiamo e non le dissolviamo proprio al nostro interno. Se ci identifichiamo con i pensieri di dolore e andiamo dietro a tutto ciò non è più una scelta, sfuma il nostro libero arbitrio perché è qualcun altro a scegliere per noi. Dobbiamo pertanto edificare una scelta che non ci faccia scappare di fronte al dolore ma che ci permetta di trovare l'estasi all'interno del dolore. Se riusciamo a farlo avviene il miracolo. Il miracolo è contattare la sofferenza all'interno del nostro cuore. Quindi se riusciamo a costruire una velocità, una delicatezza e una sensibilità più veloci del pensiero del nostro mentale inferiore, quello che ha fatto le domande di qualche istante fa, più veloci dell'etica e della morale del mondo, allora possiamo provare una sensazione di grande estasi all'interno del dolore. E l'estasi deriva dal comprendere di essere noi il tramite tra il Padre Cielo e la Madre Terra. È il Padre che opera i cambiamenti attraverso di noi e la nostra apertura ai messaggi del Padre è fondamentale. Tutto ciò avviene per mezzo delle intuizioni. Ma perché noi riusciamo a essere aperti alle intuizioni, dobbiamo cominciare a vedere tutto ciò che succede quotidianamente come prove per l'allenamento dell'eroe, l'allenamento del guerriero. Ogni giorno ci viene fornito un allenamento proporzionale al nostro livello di coscienza. Le tensioni che il giornale e le tv ci presentano ogni edizione, i problemi con il lavoro, i soldi, le tasse, i familiari. Il nostro compito è resistere, non guardare da un'altra parte e reagire andando dietro la demenza del sistema orizzontale per condannare o giustificare l'ipotetica situazione che invece è proprio il nostro allenamento. Se guardiamo Harry avendo presente quanto detto, vediamo che lui incarna perfettamente il discepolo che fa il suo percorso per diventare un mago bianco. Quando lo vediamo sprigionare dalla sua bacchetta il più potente incanto patronus mai visto in un mago, in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, capiamo che tutto ciò è possibile solo perché Harry sta provando un immenso dolore, ma non lo sta fuggendo, lo sta affrontando e usando per espandere il suo cuore a livelli che mai avrebbe potuto ottenere con una vita normale. L'apertura di cuore non può avvenire con la calma, la serenità e il tran tran quotidiano, e il mentale inferiore non può aiutarci in questo lavoro. Infatti in quella scena, fin tanto che Harry tenta di giustificare e spiegare a Armione quanto dovrà avvenire sulla base delle idee che si era fatto prima, non accade nulla e la sua copia nel passato insieme con Sirius Black rischiano di soccombere, stanno per morire. Solo quando comprende che il racconto che si era fatto dentro la sua mente non coincide affatto con ciò che la sua anima deve fare, solo quando si affida e molla quel mentale catalogatore che vuole sempre cercare di capire tutto così da poterlo raccontare, che lo distrae dall'adesso, solo allora riesce a sprigionare un potere mai visto. In quel momento lui è il grandioso mago bianco che è venuto a fare la differenza, il predestinato come nel seguito della saga spesso verrà nominato. Come ci ricorda la stessa creatrice della saga, sono le nostre scelte che dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità. E allora comincia a intravedersi il disegno nascosto tra i tanti pezzi del puzzle, un disegno che scandalizza il professor Piton quando nell'ultimo capitolo della saga fa accedere Harry a un suo ricordo, il ricordo di quando parla con Silente comprende l'ineluttabilità del piano. Verrà un momento in cui Harry Potter andrà rivelata una cosa ma devi aspettare finché Voldemort sia al massimo della vulnerabilità. Che cosa gli va rivelato? La notte in cui Lord Voldemort andò Godric's Hollow per uccidere Harry e Lily Potter si interpose tra loro, la maledizione gli rimbalzò addosso. In quell'istante un frammento dell'anima di Lord Voldemort si agganciò alla sola cosa vivente che riuscì a trovare, Harry stesso. Oh c'è un motivo per cui Harry può parlare con i serpenti, c'è un motivo per cui può guardare nella mente di Lord Voldemort. Una parte di Voldemort vive dentro di lui. Quindi quando arriva il momento il ragazzo deve morire? Sì, sì, deve morire. Lo hai tenuto in vita perché muoia al momento opportuno, lo hai allevato come una bestia da macello. Non dirmi ora che ti sei affezionato al ragazzo. Expecto, patronum. Lily, dopo tutto questo tempo. Sempre. In quel momento, Piton si scandalizza perché non comprende né cosa deve morire in Harry, né la predestinazione che non riguarda solo Harry, ma tutti. Silente, che deve morire, e anche Piton, che deve svolgere il suo ruolo fino in fondo. Ci torneremo fra qualche minuto. Per quanto appena detto, uno dei libri e anche dei film che apprezzo maggiormente è il sesto, Harry Potter e il principe mezzosangue. Ricorderete che nel racconto Harry e il professor Silente, mai tanto insieme come questa volta, cercano di ricostruire il passato di Voldemort attraverso i ricordi di persone che lo hanno conosciuto prima che lui diventasse il signore oscuro. È grazie al pressing che Harry fa sul professor Lumacorno che i due scoprono l'esistenza degli Horcrux, oggetti in cui il mago nero ha nascosto pezzi della sua anima, una sorta di vite di riserva, così da rendersi quasi immortale, ma anche da macchiarsi di crimini indelebili contro lo spirito. All'inizio del nuovo anno scolastico, Harry entra in possesso di un libro di proprietà di un ex alunno che si firma, Il principe mezzosangue, nel quale sono annotati nuovi e potenti incantesimi. Al tempo stesso scopre che Draco Malfoy è diventato un mangiamorte, così Harry è super impegnato a combattere il suo giovane rivale di sempre e ad aiutare Silente a distruggere gli Horcrux. Il capitolo però si chiude con l'assassinio del preside per mano di Severus Piton, rientrato tra i ranghi di mangia morte e rivelatosi essere proprio il principe mezzosangue. Questa parte della lunga saga mi piace particolarmente perché mette in luce i differenti livelli di coscienza dei personaggi come nessun'altra parte sa fare e il parallelo con la nostra vita reale è molto evidente. Harry è l'eroe, sta affrontando il suo viaggio, quindi è chiamato ad azioni di coraggio, di amore e di sacrificio per poterlo completare e in qualità di eroe non si sottrae ai suoi doveri ma sceglie di portare la sua croce. Il suo livello di coscienza è adeguato al tipo di sfide che gli si presentano e cresce di capitolo in capitolo, si sta preparando alla redenzione e al ritorno, si sta preparando a raggiungere il quinto livello di coscienza. Il professor Luma Corno invece, pur essendo molto più anziano del giovane Harry, e quindi più esperto e preparato nel nostro immaginario creato dalla mente ordinaria, non è affatto pronto ad affrontare il viaggio. Sebbene sia consapevole di custodire un ricordo preziosissimo per chi sta combattendo le malefatte di Voldemort, è troppo spaventato dalle conseguenze di rivelarlo a Silente e a Harry. Cosa lo spaventa? La sua cura principale non è perdere la vita per una imboscata. Sicuramente Luma Corno teme che Voldemort, una volta capito che lui possiede un'informazione fondamentale per la ricerca del nostro eroe, possa vendicarsi facendolo uccidere, ma questa è una paura di un livello di coscienza più basso. Per semplicità la definisco coscienza di livello 1. No, Luma Corno teme più di ogni altra cosa di non valere, cioè di perdere la stima delle persone a cui tiene, Silente, Harry e più in generale della società in cui si senta suo agio, il mondo di Hogwarts, che lo reputa uno stimato professore che è stato tanto amato dai suoi alunni. Questa è una reazione di un livello di coscienza più alto del precedente, ma ancora non abbastanza evoluto da poter effettuare il viaggio, quindi diciamo un livello 3. Per quello che possono valere i numeri, naturalmente, perché quando si parla di evoluzione di coscienza è una spaventosa semplificazione. Luma Corno tiene alla sua reputazione e alla percezione che il branco ha di lui più di ogni altra cosa. Pertanto cela gelosamente un segreto che ritiene che, qualora ha reso pubblico, possa metterlo in cattiva luce, dimostrare la sua vigliaccheria e isolarlo dagli altri. Chi agisce in Luma Corno è ancora una volta la personalità, ciò che ho sempre definito nei miei video come l'insieme dei tre corpi, fisico, emozionale e mentale, che la nostra anima prende quando scende in una nuova incarnazione sulla Terra. Quando siamo di là dal velo, nasce un'esigenza proporzionata ai nostri talenti. Attraverso una spinta che ci viene data, compiamo un grande sacrificio, proiettando ciò che noi siamo e dando vita alla nostra personalità con il materiale che c'è a disposizione qui sulla Terra. La personalità è a immagine e somiglianza del nostro livello di coscienza. Prendiamo ciò che si serve in base al livello di coscienza e alle esperienze che dobbiamo fare. Un'anima relativamente giovane o che non ha fatto troppi progressi nel suo viaggio esperienziale, una volta nuovamente sulla Terra, lascia che sia la personalità a prendere il totale controllo e le decisioni su come agire. Ma la personalità agisce spinta dalle emozioni inferiori, paura, rabbia, frustrazione, indolenza e dal mentale inferiore, l'insieme di credenze e di pensieri ripetitivi che affollano la mente e distraggono dal vivere l'adesso. Lo fa con il solo scopo di sopravvivere perché non ha la qualità dell'immortalità che è un attributo dell'anima. Infatti i tre corpi che compongono la personalità vengono abbandonati nel processo della morte, sebbene in momenti differenti. Per approfondire questo concetto consiglio il libro La Sargezza di Rosa Croce di Rudolf Steiner. Ho detto che tale rappresentazione riflette alla perfezione ciò che avviene nella vita reale, eppure non riusciamo ad avere la stessa consapevolezza che ciò accade esattamente nella nostra vita quotidiana. Intendo dire che quando guardiamo questo film e vediamo in azione i due personaggi, riconosciamo subito chi è l'eroe e trasferiamo in lui la nostra identità. Come già spiegato nel primo video, questo meccanismo è caratteristico del viaggio dell'eroe. Quindi noi trasferiamo la nostra identità in quella di Henry, non in quella di Lumacorno. Con la nostra coscienza tendiamo a condannare come vigliacco l'atteggiamento dell'anziano professore perché sappiamo che la sua titubanza e la sua paura stanno mettendo a serio rischio la vita di tante persone. Credo che ognuno di noi abbia pensato ma questo Lumacorno è un demente irresponsabile. Tuttavia quando siamo noi a dover agire nella vita reale, quando assistiamo a delle prepotenze o a delle ingiustizie, agiamo come Henry o come Lumacorno? Prendiamo l'iniziativa con coraggio o molto più spesso di quanto crediamo sposiamo l'atteggiamento remissivo dell'anziano professore? Non sono affari nostri, in fondo quello se l'era cercata, tanto il mondo non si può cambiare, e frasi di questo genere. Quando scegliamo di non abbracciare le nostre sfide, quando ci manca il coraggio, evidentemente stiamo lasciando che la personalità guidi le nostre azioni, perché ci identifichiamo ancora con essa. Non abbiamo compreso che quello è un involucro, un guscio, che abbiamo preso per fare esperienze qui sulla Terra, ma che non coincide con la nostra vera natura di esseri infiniti, esseri eterni e amorevoli. Viviamo come reali le sue paure di perdere la vita in una delle tre possibili modalità. Temo di morire, caratteristico del livello di coscienza più basso, il primo livello. Temo di essere abbandonato e come conseguenza di morire, caratteristica del secondo livello di coscienza. Temo di non valere, cioè che qualcuno mi critichi e non mi accetti, quindi di essere abbandonato e poi di morire, caratteristico del terzo livello di coscienza. In ogni caso, i tre livelli sono dominati da un sentimento di paura. L'umacorno ha paura di sbagliare, vuole uscire dal senso di inadeguatezza e portare controllo nella sua vita. L'incertezza che sente è la paura di non sopravvivere. Ma ahimè, il controllo che può avere non sta sul piano orizzontale, e infatti presto gli eventi precipitano nella sua vita fatta di apparente serenità. Dovrebbe invece passare dall'incertezza all'imprevedibilità. Quando siamo incerti davanti alla scelta siamo bloccati, paralizzati, e in quel momento cerchiamo consensi, risultati, risposte, una guida, un terapeuta, qualcuno che ci aiuti e che ci guidi. Lo facciamo perché vogliamo uscire dall'incertezza. E non riusciamo a vivere l'incertezza perché abbiamo paura del vuoto che essa porta con sé. Se invece riusciamo a vivere l'incertezza anziché fuggirla, questa diventa un appello, un grido all'imprevedibilità. Quante opportunità di incertezza dà il mondo di Hogwarts a Harry? Infinite! E quante ne dà a noi il mondo attuale in questo momento? Quante ne vogliamo? O meglio, quante ce ne servono? Lavorare su questa incertezza non è facile. Nel momento in cui la proviamo, ogni singola cellula del nostro essere si mette a gridare all'impazzata e ci urla di trovare una soluzione. E siccome siamo identificati con tutti questi pensieri, crediamo di essere loro. Dobbiamo invece vivere la sensazione di incertezza perché è la porta che conduce al piano superiore, al piano intuitivo, al sopramentale. E nel film tutto ciò è rappresentato in modo perfetto, per esempio, dalla pozione fortuna liquida che Harry assume perché con il mentale inferiore è in un vicolo cieco e non sa come uscirne e come progredire ulteriormente. La pozione non fa altro che metterlo in uno stato di ascolto senza giudizio e di piena fiducia nell'esistenza, spegnendo le domande della mente e i suoi tentativi di controllo. L'unico rimprovero che potrei fare alla Rowling è avere chiamato la pozione fortuna liquida. Non c'è nessuna fortuna ad agire in questo caso, ma un atteggiamento preciso e voluto di totale abbandono alla fede, totale fiducia nell'esistenza. Quindi meglio fiducia liquida che fortuna liquida. E la fiducia porta alla risoluzione del problema per il giovane mago. E Voldemort come si inserisce nel processo evolutivo di Harry Potter? Riprendiamo il passo di Matteo letto poco fa. Gesù disse loro, vedete tutte queste cose, in verità vi dico non resterà qui pietra su pietra che non venga distrutta. Sedutosi poi sul monte degli Ulivi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e in disparte gli dissero, dici quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e la fine del mondo. Gesù rispose, guardate che nessuno vi inganni, molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e trarranno molti in inganno. Gesù sale al monte, si siede e da lì guarda, ha lo sguardo dall'alto, lo sguardo di Dio e ci preannuncia che dobbiamo liberarci dagli attaccamenti e dalle identificazioni che costituiscono il nostro tempio e non rimarrà pietra su pietra del nostro tempio che non sarà distrutta. Questo è il lavoro che dobbiamo fare in qualità d'eroe che compie il viaggio e se non lo facciamo con un lavoro interiore allora il lavoro ci si presenta esteriormente. Quante idee di noi stessi e del mondo, quanti modelli ci siamo fatti? Tutto ciò deve crollare ma se non lo vediamo, se rimaniamo all'interno delle nostre convinzioni illusorie e non lavoriamo per smantellarle, il mondo fuori agisce di conseguenza per farci vedere su cosa non stiamo lavorando. Questo è il mondo che sperimentiamo quotidianamente, con guerre, cataclismi, inondazioni, fane, pandemie, sono tutte specchio del mondo interiore che non stiamo guardando per dissolverlo. E nel film questo è anche il mondo della società dei maghi. Voldemort è la cristallizzazione e la manifestazione esteriore del problema della società che i maghi e le streghe che ci vivono non stanno affrontando al loro interno. Voldemort è la manifestazione esteriore del lavoro interiore che Harry deve fare, assumendosi le sue responsabilità e portando la sua croce. Luca 11,40 Stolti, colui che ha fatto l'esterno, non ha forse fatto anche l'interno? Quando accade qualcosa fuori ed entriamo in profonda risonanza con esso, dobbiamo andare interiormente, guardare il profondo disagio e il dolore che ci provoca e dissolverlo anziché fuggirlo o puntare il dito su ciò che hanno fatto gli altri e che non va bene, perché se agiamo così la storia si ripete e torniamo all'inizio. Mai in tutta la saga Harry se la prende con altri che prima di lui non hanno fatto abbastanza per risolvere la situazione drammatica in cui tutto il mondo della magia e anche quello dei babbani sta precipitando. Si prende in carico i suoi dolori e affronta la sua nemesi. Ascoltate bene il dialogo tra Harry e Silente quando Harry muore e si ritrova in un qualcosa che potremmo chiamare pardiso, nella sua esperienza di pre-morte in una bianchissima stazione di King's Cross. Harry chiede a Silente, professore è vero tutto questo o sta accadendo dentro la mia testa? E Silente risponde, certo che sta accadendo dentro la tua testa Harry, dovrebbe voler dire che non è vero. Stolti, colui che ha fatto l'esterno, non ha forse fatto anche l'interno. Cosa muore dentro Harry, specchio di ciò che muore fuori? La sua parte di oscurità che Voldemort esteriormente manifesta, la non accettazione della sua vita di orfano, la rabbia per il profondo senso di ingiustizia e l'incomprensione di cosa gli è accaduto fino a quel momento che gli impedisce di trasformarsi e tornare con un livello di coscienza superiore. Guardando la parte morente di Voldemort, che però è dentro di Harry e muore quando Harry viene colpito dall'incantesimo mortale, la accetta senza giudizio e se ne libera e quindi a partire da quel momento può tornare indietro veramente trasformato. Ecco allora che anche tutta la scena del dialogo tra Piton e Silente su Harry e il fatto che Severus si scandalizzi perché non comprende cosa deve morire in Harry e tantomeno non comprende la predestinazione che lega tutti e tre, ora assume tutto un altro e ben più profondo significato e una profonda comprensione. È lo stesso problema che affligge la nostra società in questo momento e da chissà quanto tempo. Facciamo un parallelo tra il mondo della magia e il mondo tecnologico di oggi. Le scoperte e le invenzioni tecnologiche ci hanno aiutato a compiere dei passi da gigante e a risolvere problematiche che secoli prima noi riuscivamo a risolverle, così come ad accogliere nuove sfide. Ma esattamente come la società dei maghi e delle streghe di Harry Potter non abbiamo ancora compreso che la vera sfida è all'interno di noi stessi, non all'esterno. A cosa serve infatti avere dei proteri magici se la società continua a essere dominata dalle disparità sociali? Abbiamo visto maghi poveri e maghi ricchi, dall'avidità e dalla grettezza. I folletti non rappresentano forse le brame di più basso livello. Dalla vanità, ricordate il professor Gilderoy Hallock, dalle distrazioni del mentale inferiore. Tutta la struttura sociale si muove sulla base di una burocrazia che per certi aspetti è anche più stupida e complicata di quella degli umani. Dalla paura di perdere la propria reputazione, abbiamo già parlato di Romacorno, ma che dire del professor Quirrell e del ministro della magia che in preda al panico compie piccolizze indicibili e dalla violenza fisica, i mangiamorti o i trattamenti di vere e proprie schiavitù combinate agli elfi domestici. Allo stesso modo, a cosa serve avere una tecnologia avanzatissima e che promette nuovi traguardi con l'intelligenza artificiale se non la usiamo per eliminare le guerre, la povertà, le disparità. Il principe del mondo, che viene chiaramente menzionato nei Vangeli come colui che ha le chiavi di questo mondo e quindi il sistema che ha creato per governare la terra, non ha interesse a risolvere i problemi dell'umanità e in un certo senso non è il suo compito. Il suo compito è manifestare nel mondo esteriore visibile ciò che non stiamo affrontando nel mondo interiore. Finché non lo capiremo, ci verranno sempre proposte guerre, carestie, disparità sociali, crimini, specchio esteriore delle nostre paure, delle nostre piccolezze, delle nostre frustrazioni, che non abbiamo il coraggio di guardare e, guardandole, di riconoscerle come un qualcosa che non ci appartiene e quindi di dissolverle. Il lavoro da fare è all'interno, se vogliamo vedere dei cambiamenti all'esterno. In conclusione, Henry completa il suo viaggio e accede ai livelli superiori di coscienza, non perché è più intelligente. L'intelligenza raffinatissima è un attributo specifico di Silente che però muore prima della conclusione. E neanche perché è più preparato. Hermione, che adora studiare, è molto più forte nella teoria di quanto lui lo sia mai stato. E tantomeno perché Henry è fortunato. La fortuna non esiste e, in ogni caso, vogliamo parlare di quanto sia stato fortunato nella vita il nostro giovane signor Potter. Henry completa il suo viaggio e accede ai livelli superiori di coscienza perché ha una forza incrollabile. Crede nella giustizia, che pure lui di ingiustizia ne ha subite tantissimo. Crede nell'amicizia e nell'amore, nonostante non abbia saputo cosa fossero prima di incontrare Ron e Hermione. In nome dell'amicizia e dell'amore è pronto a compiere sacrifici estremi. Crede in un disegno superiore che lo porta ad accettare i dolori della vita, a portare la sua croce, come ci ricorda il Vangelo di Luca 9, 23-25. Poi a tutti diceva, se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Capire è il primo passo per accettare e solo accettando si può guarire, dice Silente a Harry in Harry Potter il calice di fuoco. Harry accetta il suo destino e si affida, il che non significa vivere inconsapevolmente o con fatalità ciò che gli capita, al contrario, significa riuscire ogni volta a guardare le sofferenze come opportunità per la crescita, imparando a osservarle con distacco e a dissolverle interiormente e non come sfortunati eventi da maledire e da evitare. Significa riconoscere la perfezione di un mondo che è perfetto così com'è e adoperarsi per cambiarlo, cambiando anzitutto se stessi. È un paradosso e proprio per questo è vero, in quanto viviamo in un costante paradosso. Questo fa di Harry Potter un potente mago bianco, un potentissimo mago bianco. Se non ci credete, leggetevi il trattato di magia bianca di Alice Bailey. Anche questo video è giunto al termine. Se vi è piaciuto mettete un like e commentate. Commentate anche se non vi trovate d'accordo, naturalmente. Dubito che l'argomento Harry Potter si esaurisca qui. Forse in futuro riprenderò questa monumentale saga per altri spunti di riflessione, visto che l'opera della Rowling ne è estremamente ricca. Il mio augurio è per una buona giornata e a presto.